Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, come vedete dall'arrella qua di fianco è un video haul, ormai questo è diventato un punto saldo dei miei video e sembra anche che vi piacciono molto, per cui ho deciso di fare un altro. Questa è di nuovo una collaborazione con Shein, tutte le volte, tutte le volte Shein, questa volta sarà concentrata però solo sui costumi, a proposito vi ricordo che ho un codice sconto che però per questo video è diverso perché appunto si tratta di una collaborazione proprio speciale per l'estate, per cui solo costumi, ve lo lascio qui nell'info box perché non me lo ricordo. Cioè me lo lascio scritto qui e anche nell'info box, comunque di tutto quello che vi ho fatto vedere vi lascio il link nell'info box, i link diretti e vi lascio anche le varie recensioni che ho fatto in passato, soprattutto la prima che è stata la mia esperienza d'acquisto, quindi un ordine che ho fatto io, in cui vi do tutti i dettagli. Come sempre faccio un riassunto, allora i capi vengono dalla Cina, per cui ci mettono un po', però fanno scalo in Europa, per cui niente spese doganali. So che nell'ultimo periodo i tempi di costi sono un po', si sono un po' dilungati, me l'hanno confermato anche appunto dal brand, perché ho già fatto un ordine per il prossimo video haul, perché mi hanno detto i tempi adesso sono un pochino più lunghi, per cui ci sarà di aspettare un po' di più. Io comunque i costumi li ho ricevuti bene o male nelle tempistiche, le solite 10-15 giorni che mi sono sempre arrivati, direi più 15 però questa volta, però per cui comunque le spedizioni sono estremamente sicure. Le taglie sono un po' un terno all'otto, non smetterò mai di ripeterlo, prendete i vostri centimetri alla mano e ogni singolo capo prendete la taglia che vi viene suggerita dal sito. Se c'è qualche centimetro di differenza, non è importante, soprattutto magari in questo caso se sono costumi, fate affidamento a qual è la vostra parte più problematica. Io ad esempio ho i fianchi più larghi, per cui se devo scegliere una misura un po' più abbondante, scelgo i fianchi piuttosto che ad esempio la vita. Guardate molto anche il modello, però di base fate affidamento alla loro tabella taglie e non alla conversione taglia vostra taglia sheen, perché spesso le taglie sono completamente diverse. In questo ordine ho ordinato delle 2XL ma anche delle 4XL, per cui le loro taglie sono un pochino sballate. La qualità è low cost, pagate poco i vestiti, pagate poco anche, cioè la qualità è diciamo proporzionata. Ciò non toglie che comunque i costumi siano fatti bene, i tessuti siano molto belli, io li ho già usati tutti questi, a parte questo qui che purtroppo non mi va, non ha perso colore, non è successo niente, non ho avuto problemi indossandoli, l'unica cosa che purtroppo non sono secondo me studiati esattamente per supportare tanto, ma ve ne parlerò modello per modello. Direi che ho più o meno coperto tutto quello che dovevo coprire come anticipazione, quindi adesso vi faccio vedere i modelli. Siccome non me ne voglio dimenticare parto anche dai due accessori che ho preso, uno sono queste scarpe, questi sandali, questi sono un 39, io pensavo che vestissero poco perché appunto essendo che sono cinesi magari hanno una vestibilità più piccola e in realtà il 39 è perfetto, anzi hanno una pianta estremamente larga e il piede ci sta quasi quasi largo, per cui sono molto carini, non li ho ancora usati diciamo a pieno, però sono molto comodi, sono leggermente imbottitini, ma proprio una minima parte e dietro hanno l'elastichino, quindi sono molto comode, il davanti è tipo raso con un disegnino fiori e il fiocchettino, c'erano tanti modelli fatti così e in realtà sono molto carine le ciabattine. Ho voluto provarle proprio per capire un attimo la vestibilità perché io non avevo mai comprato scarpe da Shein, ma per queste sono rimasta estremamente soddisfatta. L'altra cosa che ho preso è un paio d'occhiali, c'erano questi modelli di tantissimi colori, li avrei voluti prendere tutti, io adoro abbinare gli occhiali ai costumi, sono soprattutto d'estate, l'occhiale è uno di quegli accessori che prendo anche in modelli diversi, colori diversi, non necessariamente di marca, anche comunque economici, però secondo me danno quel tocco in più all'outfit in generale d'estate, perché appunto potete giocare con i colori e i modelli. Io ho preso questo modello che a me piace molto, ha occhio di gatto, e secondo me è uno dei modelli che mi sta meglio come forma, però sono molto cool, mi piacciono un sacco. Poi veniamo ai costumi, allora, ve li faccio dare un po' in ordine, sparso, come vi dicevo ho scelto delle taglie diverse, non so se qua ce le ho scritte, ma eventualmente ve lo scrivo nell'infobox anche, però comunque questa è una 3XL, ed è fatto da mutanda, semplice, è foderata, quindi non si vede niente, per cui andate via tranquille, ecco. La mutanda è semplice, è a vita alta, ma non altissima, io personalmente vorrei i miei costumi un pochino più a vita alta, ma quello è un problema mio perché ha uno scalino nella pancia che mi crea qualche problemino, insomma non mi piace esteticamente, però a un certo punto anche chi se ne... li ho indossati tutti, nonostante per tutti qualcosa, qualche difettuccio ce l'avessero, ma per come stavano addosso me, diciamo, però alla fine li ho indossati comunque tutti senza problemi, per cui andate al mare, indossate un bikini e fregatevene, giusto, giusto. Quindi questo che è leggermente più, l'avrei preferito leggermente più alto, però comunque come mutanda è ottima, non è sgambata, copre bene, copre quello che deve coprire, l'ho voluta prendere azzurro perché l'azzurro è un colore che uso pochissimo, per cui ho voluto differenziare un po', e ha questo stampa un pochino floreale con di fiori bianchi, il top è molto interessante ed è anche molto carino. Allora è fatto come se fosse un top appunto, questo fiocco davanti è decorativo, c'è il pezzo che viene via, infatti a un certo punto in mare me lo sono trovata che gironzonava in mare, quindi l'ho preso e l'ho rilegato, e ha queste balzine che un pochino coprono il sotto, arriva tipo fino qua, comunque lo vedete anche indossato, foderato, ha delle coppe come tutti i costumi di Shane, ha delle coppe che sono, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, aspetta, vedi così, forse sono estraibili, perché c'è sempre il buco per tirarle via, e sono rotonde, cioè sono proprio rotonde così, in realtà secondo me servono non tanto per sostenere, ma semplicemente per evitare che magari si vede, capito cosa, non lo dico per demonetizzazione, ma l'area, the boob, capito? questo, a differenza di molti altri, in realtà è anche abbastanza supporto sotto, perché ha queste due strisce, che comunque fermano bene la parte qua sotto, per cui sostiene anche, quindi tra i vari modelli questo è uno di quelli che trovo abbia più sostegno, io non ho un seno grandissimo, per cui non ho bisogno di un reggiseno che mi tenga su tanta roba, per cui penso che i costumi di cilini per me funzionano, se avete tanto seno potrebbe essere un po' più problematica la cosa, però appunto questo secondo me è un ottimo modello, è carino ed è anche un po' più coprente, diciamo. Stessa filosofia anche per questo, questo in realtà io ho preso mi parla 4XL, ma dal sito mi sembrava, era stretto, l'ho voluto prendere lo stesso e in effetti, dove è? C'è, sì c'è l'etichetta, però non la trovo, comunque sì, sono abbastanza sicura che fosse una 4XL, no, una 3XL, l'ho convinto di aver preso una 4XL, non lo so. Comunque diciamo che dalle misure mi era abbastanza stretto, ho voluto rischiare lo stesso e in realtà mi va bene, mi piaceva molto la mutanda, perché è bella alta, questa è alta alta, arriva proprio sopra l'obelico, con un agio, e ha queste rouge dalla parte che un pochino aiutano a camuffare, non che voglio effettivamente camuffare, però secondo me sono molto, come stile, sono molto flattering, perché mi viene in inglese e non in italiano? Valorizzano, perché appunto creano un movimento nella parte, da questa parte, e qui invece è lì c'è sul davanti. Mi piaceva il disegno su questo blu, questo blu con la fantasy floreale, io adoro il floreale, ma non ho bisogno di, secondo me, di dirlo, adoro i colori e adoro le stampe. E poi sopra c'era questo, che io ero un po' scettica quando l'ho visto, e ho detto sì, figurati, non mi starà mai su, in realtà, raga, sta su, sta su, anche questo ha le sue coppe, quelle rotonde che vi ho fatto vedere prima, e in realtà fa il suo lavoro, e dopo ha l'accettino da allacciare, appunto, sul collo, che aiuta comunque a tenersi un po' tutta la barata. Sotto non ha tantissimo supporto, per cui se avete tanto seno, forse questo potrebbe essere un po' più problematico, perché appunto non ha elastico, non ha niente qua sotto, cioè ha solo la cucitura un po' più aderente, e poi dopo va via a peplo, quindi con la, con il, con la balzina. E questo secondo me può essere, perché non è proprio un tanchini, perché non è comunque un top, però può sembrare un tanchini, perché questo insieme, comunque, questo viene molto sopra, questo viene molto sotto, l'effetto è comunque di un costume, diciamo, intero, tanchini. A me non mi sta benissimo, secondo me, perché comunque mi allarga nella parte, che tecnicamente è la mia parte più stretta, quindi forse lo suggerirei più a chi ha un fisico a mela, però, comunque, è molto carino, e questo secondo me è molto carino, anche usato come top, l'ho usato appunto mettendoci sotto degli shorts verdi, e verde oliva, e stava, secondo me, molto bene. Questo era il pezzone di cui più mi, diciamo, più mi interessava, e quello che contemporaneamente sapevo mi sarebbe stato peggio, perché fondamentalmente ha una mega scollatura che arriva fino all'obelico in fuoco e parola, quindi ha la mutanda alta, abbastanza alta questa, bella comoda, e poi ha questi due pezzi di tessuto, sempre con le solite coppe, sempre tutti foderati, comunque non si vede niente, sono belli, belli bussi comunque come costumi, non so, non mi è capitato di avere dei costumi di monkey che solo guardarli, praticamente vedevi attraverso la pelle e attraverso gli organi interni, che erano trasparenti, cioè sottili, non trasparenti, comunque ha le coppe, e fondamentalmente questo non ha supporto, questo è proprio uno di quei modelli, soprattutto che io poi che devo tirarlo, ho anche molto dalla parte del collo per tirare su, che schiaccia il seno, io vedo il seno comunque anche un po' cadente, perché raga, l'ago a quarant'an', no, quarant'an' ancora no, però siamo lì, e comunque la forza di gravità fa il suo lavoro, per cui il seno ce l'ho cadente, e non è proprio bellissimo, ma vale sempre il discorso del chi se ne frega, quando l'ho indossato mi sono sentita una gran fregna, e per cui a un certo punto anche chi se ne è, non mi ha interessato, non è comodissimo comunque, perché appunto è bello da vedere, però quando magari mi giravo dovevo stare attenta, perché comunque si scolla tantissimo, e quindi non esce niente, perché io non ho tanta roba da fare uscire, però se non state attente qualcosa esce, vero è che potete anche semplicemente dare due punti e chiudere un po' di più il costume, però di questo mi rinnovano la cosa del colore, la fantasia è bellissima, un abbinamento di colori super top, come cavolo parlo? Scusatemi. Comunque mi è piaciuto molto, ah non ve l'ho detto, poi ha anche questa foushacca, che in realtà va legata sul davanti, ma qui comunque beh, presumo che l'abbiate visto indossato, che secondo me gli dà quel onf in più di stile che non guasta. Questo è il costume passepartout, questo è il costume per chi non vuole usare il costume secondo me, ha le manichine, per cui se avete problemi con le braccia larghe, questo potrebbe fare il caso vostro, però io l'ho indossato anche quando dovevo prendere il sole, tenendo la manica sotto, perché in realtà a me piaceva più come modello di stile, diciamo, che per la manica, perché insomma al mare a un certo punto ci si sbraccia. Comunque anche messo sotto, cioè invece di metterlo qui messo così, sta bene, non c'è tessuto in più. Ha le spalline, che sono regolabili, e davanti a questo disegnino, questo incrocio, niente di che, insomma, però molto carino. Questo sostiene abbastanza, questo ha il taglio sotto, questo proprio, secondo me è uno di quei costumi fatti apposta, ha il taglio sotto, che aiuta a tenere su le sorelle, e ha le solite, le solite coppe farlocchissime, che però fanno il loro lavoro, e potete anche togliere, no, qua non si può togliere, qua, sì, le potete togliere se non le volete, e c'erano tantissimi colori, io ho preso questo colore fucsia, che mi piace molto, però forse è un pochino tanto neon, l'avrei preferito forse un po' più tenue, diciamo, però comunque molto bello addosso, perché fa anche da top, anche questo gliel'ho usato comunque, con top e gli shorts sopra, perfetto, stavabilissimo, e per cui ci piace, ci piace, dicevo, c'erano tantissimi colori, io ero indecisa anche con il verde, c'era un verde e un bordeaux molto belli, per cui, di questo ho preso una 2XL, mi pare, perché comunque veste parecchio, sì, 2XL, e questo mi sa che ci fossero anche in tante taglie, cioè, è proprio uno di quei modelli, secondo me, passpartù, l'ho visto indossato anche da altri vlogger, che sta benissimo, sta bene, sembra quasi un body, però in realtà è un costume, ma dai, questo purtroppo è stato il fail, ed era anche quello su cui avevo in realtà abbastanza, abbastanza speranze, ma perché è un modello molto attuale, questi sono quei tipi di costumi che vanno tanto questa stagione, è enorme, mi è grande, purtroppo io ho preso secondo me una 3XL, cosa ho preso? Dove sei? Dove sei? Esci fuori, perché non sorti fuori? Non mi ricordo cosa ho preso, secondo me una 4XL, perché ho preso una 4XL? Perché ho fatto caso alle misure, comunque dicevo, questo è uno di quelli più di tendenza di questo periodo, di questo tessuto, che non è proprio l'icra, non so se si riesce a vedere la pattern del tessuto, è comunque lavorato, sotto è foderato, e sopra è questo tessuto, che non è proprio tessuto da costume, sembra più buono, non lo saprei, non lo saprei, quindi non so neanche quanto possa essere pratico, poi ha gli orli smerlati, molto carino, questo era un dettaglio che mi piaceva molto, e questo è tanta vita alta, questo come vita sarebbe stato perfetto, infatti io sto anche pensando di prenderlo dentro, con la taglia e cuci, di prendere, di farci una cucitura di qui, e una cucitura di qui, per stringerlo, e stessa roba per il top, perché in realtà mi allargo anche il top, questo tra l'altro non ha supporto di nulla, cioè mi allargo qui, mi allargo qui, mi allargo qui, è largo, ha il nastrino dietro da chiudere, però più di tanto non si può chiudere, e davanti si presenta come un top, molto carino anche questo, c'erano tanti colori pastello, io amo i pastelli, i colori pastelli sono una tendenza di questa stagione, per cui questo poteva essere proprio un, però è stato un fail in realtà, per cui, sì, cioè ci sto pensando se metterci mano, magari cercare di allungarlo, di stringerlo, anche perché ricordate che su Shein si possono fare i resi, c'è anche l'assicurazione, mi pare che costi un euro e mezzo, una roba del genere, ma non si possono rendere i costumi, per cui, se vi comprate i costumi, vi rimangono nel groppone, vero è che non costano tanto, però, insomma, ultimo, ma non ultimo, è l'adorabilissimo, questo, con la stampa, che mi ha conquistata, io, questo modello, ne avevo preso uno l'anno scorso, quando ho fatto il mio primo ordine, avevo comprato questo modello di costume, e l'avevo sfruttato tantissimo, per l'estate, questo è leggermente diverso, in realtà, però, più o meno, funziona uguale, allora, la mutanda, di nuovo, non è altissima, per me, io l'avrei voluto un pochino più alta, ma di nuovo, chi se ne frega, nel senso, mi ci sento un po' più a mio agio, con la mutanda alta, ma mi rendo conto, che è più nella mia testa, questa cosa, molto comodo, la taglia giusta, e comunque, il disegno, quando si allarga, non si sforma tantissimo, per cui sta bene allo stesso, una tonalità di rosa, molto carina, rosa maglialino, che mi piace, e questa fantasia, con le anguri, è molto carina, il top, anche lui è, indovinate un po', molto carino, perché io dico sempre, molto carino, giuro che non sono sotto l'effetto, di stupefacenti, il top, è praticamente, tutta una parte unica dietro, e sul davanti, invece, si apre così, ovviamente, quindi, vi trovate con un pezzo unico, voilà, lo indossate, e quello, quello annodate, sul davanti, questo per me, è molto interessante, ha anche qua, le cuppe performate, che sono molto comode, in questo caso, per me, questa cosa, è molto comoda, perché vi potete gestare, la tensione del busto, quanto volete, tirare la parte sotto, del busto, per cui, stringere o meno, le buppe, per cui, se avete tanto seno, magari, lo lasciate un po' più molle, se come me, non siete, seno munite, tirate un po' di più, e avete sostegno, e avete anche, appunto, vi sentite più sicure, nella parte sotto, perché appunto, a volte con alcuni costumi, soprattutto questo qua, menta, avevo un po' la sensazione, che sotto, cioè, mi uscisse, capito, mi uscissero da sotto, capito, niente, questo è stato il mio haul, di costumi, da Shane, fatemi sapere, qual è il vostro, fatemi sapere, se avete già comprato, costumi da Shane, come vi dicevo, secondo me, è un ottimo compromesso, tra, prezzo, e, stile, funzionalità, un pochino meno, però, ci si può lavorare attorno, secondo me, vi ricordo, il mio codice sconto, del 15%, su una spesa minima, di 39 euro, fino, mi pare, a fine agosto, comunque, vi lo lascio nell'info box, e ve lo scrivo qui, con i dettagli, più dettagli, più dettagliosi, e vi ricordo, anche, di seguirmi, su, Instagram, o comunque, sui social, che trovate sempre, come plus kawaii, plus kawaii, spero che il video, vi sia piaciuto, e alla prossima, ciao! Ciao!